7 di ottobre sarà una giornata insomma che le band aretine ricorderanno perché è memorabile andiamo ad amatrice a portare la musica degli anni 60 e 70 musica vera andiamo a portare soprattutto un messaggio di amicizia e di solidarietà abbiamo raccolto soldi da marino fa mercato abbiamo fatto un bel concerto l'altra volta e ora cerchiamo di come dire di ripetere questo questo messaggio musicale di amicizia di amore per chi è stato molto più sfortunato di noi come si svolgerà questa giornata? Beh una giornata porteremo tutta la nostra strumentazione in un luogo molto ampio dove avremo diciamo la possibilità di fare questo concerto ci ha messo a disposizione il sindaco Pirozzi questo ambiente e con i soldi che porteremo quei soldi che abbiamo appunto raccolto nel precedente concerto verranno restaurate o meglio costruite due fontane con le targhe donate dalle benda aretine. L'avevamo promesso al sindaco Pirozzi lo scorso anno quando viene qui ad Arezzo di dicembre noi verremo giù a trovarvi e ci siamo riusciti con tre bende soltanto ma tutte le bende praticamente sono presenti perché il loro rappresentante con noi seguirà noi ci seguirà ed ora ci sembra di toccare il cielo praticamente di coronare un sogno andare ad Amatrice portare il nostro contributo la nostra diciamo sia la nostra solidarietà che come ha detto giustamente il dottor Basco si oggettivamente si è da donare due fontane praticamente alla cittadinanza nella zona sportiva e quindi un gesto non soltanto diversamente dall'obiettivo iniziale che era quello di portare foraggio agli allevatori che il terremoto aveva devastato le proprie stalle quindi abbiamo invertito la rotta ma penso che sia dal punto di vista della visibilità e questo diciamo così non va bene nella nella solidarietà però per Arezzo penso che sia una bella una bella un bel distingo di questa iniziativa. Questa io vi auguro che sia insomma la prima magari chissà di una tournée vera e propria insomma sempre nel segno della solidarietà e della musica. Sarebbe veramente bello carino fare in modo che anche altre città altri gruppi si unissero a noi in una bella carovana d'amore per la gente per tutta la nostra popolazione.